salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale continuiamo il nostro fantastico lego jurassic world siamo al primo film jurassic park ma questo è l'ultimo pezzo diciamo l'ultimo livello stiamo scappando dai raptor ora siamo qui al centro visite abbiamo appena fatto crollare delle scale ok qua come facciamo passare non mi ricordo ok lo intrappoliamo con delle piante e mentre lui è intrappolato utilizziamo timi per passare state calmi ok ok e ragazzi qui abbiamo il pezzo più bello del film il finale che in nostro aiuto dai due veloci raptor arriva il t-rex e scontro interpretiamo il nostro t-rex mamma mia guardate che bello ok ok e qui usiamo il professor grant per fargli cadere la cassa addosso ok guardate in questa visuale che bello mamma mia mamma mia che bonte mamma mia mamma mia vai ok ok e dopo l'ennesimo tentativo mamma mia guardate che bello dobbiamo cercare qua di prendere il veloci raptor che si è aggrappato a coscia aia ok dai dai ok mamma mia cavolo anche le interazioni cioè le animazioni se sbagli cambiano ogni volta sono veramente belle ok 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 mamma mia guardate qua dobbiamo pure muovere il joystick per scuoterlo più velocemente mamma mia ho deciso di non avvallare il suo esatto uguale al film uguale cosa? Robert Maldon qui è ancora vivo naturalmente e qui la scena cosa? quando i dinosauri diciamo ruled non mi ricordo cosa vuol dire ruled forse conquistano qui abbiamo oddio ah l'avvocato che è stato mangiato nel gabinetto ok ragazzi storia completata del Jurassic Park come avete visto quindi questa era appunto l'ultima missione ok va bene le monetine il true believer cioè non abbiamo fatto naturalmente mini diet fa niente allora Alan Grant in modalità sopravvissuto Ellie Sattler in modalità sopravvissuta Ian Malcolm in modalità sopravvissuto John Hammond finalmente Lex Murphy in modalità sopravvissuta Tim Murphy in modalità sopravvissuto Dennis Nedry in modalità Costa Rica ok un bel po' di personaggi abbiamo sbloccato il risponditore di Jurassic Park Roll Bar e abbiamo preso anche il dinosauro cosa abbiamo preso? abbiamo sbloccato il tirannosaurus Rex subito ce l'abbiamo ah però ok adesso però non so se completa la storia vediamo un po' completiamo la storia o facendo un altro video vabbè completiamo la storia ok vediamo qua qui naturalmente lui non è salito cosa? ah 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 bellissimo e qui abbiamo la parte finale diciamo dell'inseguimento che si possono fare un sacco di gettoni qua come potete vedere possiamo fare il T-Rex che insegue possiamo fare anche il Raptor come potete vedere e il T-Rex mamma mia che può fare anche il verso come avete visto col cerchio facciamo salta siamo al 6,5% del gioco ok beh ragazzi spero che questo diciamo gameplay vi sia piaciuto mettete un commentino iscrivetevi al mio canale e niente ci vediamo al prossimo gameplay con Jurassic Park The Lost War il mondo perduto ovvero il secondo film quindi vi aspetto al prossimo video spero che questa serie vi sia piaciuta ci sono questo primo film e niente ciao a tutti ragazzi grazie a tutti io qui iscrivetevi al mio canale